ciappacalghè basso 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 tanto i marroni non ce l'ha più nessuno basso basso quasi c'era quasi lo prendevi per un pelo abili arruolati abili arruolati guarda che morto ma no sto prendendo ma va sto prendendo gli uccelli sto prendendo la cava la sto prendendo la cava di merone che l'ha in fondo e ma come gli abbiamo detto l'unica sera che non è venuta l'hanciulato all'unanime ciulato all'unanime non potevo votare si tu hai votato a favore perché era all'unanime e quindi ah mi avete messo voi ma volevo votare Cittarella Marco come hai detto quando ho detto i consiglieri no quando ho detto i consiglieri e tu da sotto com'è che hai fatto mi faceva così da sotto di nascosto spero devo fare segretario ma chi è che mi piace la segretaria la segretaria? è tutto compilato un po' spero di sì spero